Sì che viene! Sì! Il primo, Siononi! Perché adesso parto il muro! Vai, vai! E poi c'è la porta! Cazzo duro! Sì, è divertente! Si è aperto la porta! Dietro, eh! No, ma come? Ma è vero il muraglione? Non parte neanche là! Il muraglione non è... Ma come lo fanno? Madonna! Guarda che è una cosa... Impensabile! È una cosa impensabile qua, eh! Ah, se ne va! Non c'è neanche uno che viene su qua! Se ne va, se ne va! Non c'è neanche uno che viene su! Dai! Dai, dai! Porca tre! Come esce su? Eh, la mia! Dove è andato? Aspetta, aspetta! Eh, signor! Grande! Vediamo il cazzetto! Sì! Ma è bello! Vai, RB! Vai! 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 vai 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 ma dici che vede dietro Non credo, vai giù, vada a cantare Ma dici che vede dietro No, rifiuta anche lui Vediamo, c'è chi c'è Ah, Polaris Sai che ho paura che questo qui Si dà il giro No, lo qui ci dà il giro No, guarda, non mi viene su come niente Vai, vai Vai No, dai, poverino Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai, vai Io farò la pianta Chi c'è dietro? È primo lui, è qua No, vabbè, dai Guarda la mano come mi riusciti Vai, Manu Vai Vai Ce l'ha fatto anche lui al primo corpo Va bene Vai che il gatto di sale subito Va bene, va bene È un gatto, è spagnato Dai, dai, dai Mettila di qua Metti su, metti su Sta attaccando qualcosa Vai così Vai, no, eh Dai, ma arriva Arriva e poi va su Vai, vai 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 Divano Divano Questo qua è dietro Sai che ho capito cosa stanno facendo Stanno facendo provare il tracciato delle persone Dici? Come si? No, no, è partita la gara È partita, ma sono tutti insieme? Eh, sì È scaccia, no? Sì, sì Ehi, sì Sì Bai Dai, vai No, no, no Vai, vai, vai Guarda, vai Vai, vai Guarda, guarda Vai, vai, vai Ma che strano che non c'era qua il pironi. Ce la fanno tutti, è vero strano. Lo fa adesso, lo fa adesso. Non l'ha fatto prima. Ma che è quello con il museo delle volte? Si. Viene come niente. Si. Guarda che motore ha. Vai, vai, vai. Hai visto? Hai visto come niente. Guarda che è. 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 Sonia Acco Ne ho svento uno Rim manner Ecco, c'è già il pureoni dietro Dai, è andata via torna qui dov'è? dov'è il gancio? ragazzi il gancio eh si direi sai cosa stai? sai cosa stai? troppa potenza attenti al cavolo perchè non si vuoi più di me che cazzo no ancora spaccato no 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 vai vai lascialo lascialo adesso ma non lo tiro su lascialo è bolla oh oh si ho capito è bomba si tira dentro dai che sta andando giù prova giù lui aspetta resta lì Pasquale vai 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 Sì, 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 no, bravo! Tutti gli stai in faccia, che bello! Sì, vai indietro! Voglio vedere più indietro, vai! No, 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 Sì, no! Sì, vai giù! Vai indietro! Vai indietro! Vai indietro! Vai indietro! Vai indietro! Vai indietro! Ma non vai indietro! Eh, gli dai il giro, eh! Non ce l'ha fatto! Vai indietro! Vai indietro! Ma se parte da lì non ce la farà mai! È il Parlamento! Il Parlamento lo conosce! Vai indietro! Vai indietro! Vai! 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 Vai indietro! Vai indietro! Voi! Ma che strano che non... Sì! Vediamo eh! Sì! Sì che la fai! Sì che la fai! Cazzo cazzo! Gira 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 Ma strano che non venga su Sì! Guarda! Vai! Signore mio! Fallo spuntare! Signore mio! E adesso dov'è? Oh Dio! Niente! No! No Dio! Eh niente! Vai a B! 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 Sì che forse... Sai cos'è? È più difficile adesso che i primi giro! È diventata una saponetta lì! Hai visto com'è? eh! Vai! Vai vai vai.. Vai! Sì che vado? Ah 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 ah! E anche lui... Giovi Un'altra volta Lasciare più niente Barone E' difficile Probabilmente l'ho preso quando staccava con tutte e quattro le ruote Ci sta Che pure Peccato Adesso messo così non ce la farà mai Si ma ero fatto Si Ultimo tentativo Eeeh Di nuovo Niente Oh ma non si No 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 Madonna E' diventato Stortali 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 Vedi come scivola Ma vedi guarda Vedi come è chiuso Va via Ma faccio il retro Ancuno tutto l'ho fatto il retro Come fai? Va via sto qua Va via Retro No va via Si ho capito ma non vedi come vai Cazzo te ne frega di vederlo Ah beh Tanto rimbalzi da nascondano Ciao Qui eh Guardalo Eh Che cosa Ah mamma mia Se anche Nicoletta fa fafica Ok Vai vai Ci vanno tutto all'imitatore Cazzo Poi mi hanno fatto scendere con la macchina 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 Che cosa Ragazzi ti è fango Vi dico già Ragazzi ti è fango Vi dico già Tornando lì No torna indietro Non è che Io penso che da regolamento non possono avere blocci Le differenziate Dai Questi qui Gassi 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 No cosa stai facendo fermati Lascelo Uuuuh Aaaaaaaaaaa Uuuuh Ciccio Braccetto Vai Adesso come c***o fanno? A toglierlo Dove stare qui e farlo passare l'altro Vabbè Ma Nicoletta fa Nicoletta Io poi li passa sopra si ho visto che si è piaciuto guardalo mi ha piaciuto una patella come l'olio? guarda che questo qua è basso 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 guarda che questo è giro ma senti che vai con calma è così che tolva con calma è pat.. no vienesi troppo con calma ma perchè? eh non fare la patella la foto ieri l'ha fatto però senti che c'è un rumorino molto c'è un rumorino poco gradevole va via va via uno viene veglio per vedere due macchine capotate e non capotate ma dai poveri poveri eh vabbè ma zio can ci sarà tanto di quel fango da sotto io sono tirato fuori tutto la sciaponetta eh sta roccia sotto l'interno io la portarei e guarda comunque le rubate chietano vai signor vai signor vai 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 dai 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 bravo 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 vado a mano uno ma dov'è te lo aprite vai ma va ma inizio è andato a prendere la rincorsa vai 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 ma vedate ma vi sto da capò ma va la prende la prende male ma vada dove va ma vav ma hai visto dove l'ha preso no ma l'ha preso guarda vai vai ma vedi come la prende lui vedi che la prende dritto muò ma d'ho vitto 내가 moi oh ma che arrischiata vai 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 ma puntano di qua vai vai mamma mia che tecca turno vai 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 questo capro non riesce a impostarla ma punta contro le piante ma probabilmente cerca a trattazione di qui perché ecco 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 vai vai il gir vai Manu che la metti sul dietro chi ha povero Manu no si si no no Spero che voglio vedere la faccia di Manu ma no ma di intaccherla sotto lasciate sboggia Sì, è un po' che non arrivo Eh vabbè, al massimo mette sul bianco Ok, è posto Salvatore o salvatore? Sì Non lo so, sei lì, ma già è stata Sì, io c'ho dietro Va via, va via Anche lui la fronte è qua, eh No Oh Cazzo Brutto Bravo Parnavia che non fai le foto, Teddy Mamma mia Puttana che girolone Che girolone E due, anche ieri ha cappottato qua Fuscia Guarda Ma c'è lì ha cappottato le foto Sì Oh, Iksa Oh, possiamo andare Non riescono Vedi come vuoi Guarda quanti sono? Sì, ma non riescono a tirarlo giù Oh Eh sì, ma c'è mezzo metto nei cavalli Sì Oh, ne ho conosciuto Non riescono a dare giù un cavo, attaccarla E vinciare a girarla su Come fai? Ah, lo slegano Sì, disgruppale Cazzo, gli ha dato due bei giri, eh Bravo No, è male Non è il caso di accendere Senta che arriva Emanuele Vediamo Piano No 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 Qua è il luogo Qua è il luogo, eh